oddio che immagino che cazzo è cos'era ciao ciao ragazzi nuova reaction per voi oggi reagiremo al nuovo video dei pale dusk la canzone è happy talk siamo pronti si parte ecco già come parte oh E' un'altra cosa che vuol dire. E' un po' di più! E' un po' di più! Madonna! Oddio! è il mio non è un po' che c'è 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 questo è un ninja Ma cos'è? Oh mio Dio, sembra uno spot pubblicitario Si Non so sicuro che ti avessi sentito una parte due volte, non? No, non so di no Stanno fuori Ma forse deve stare con me In Arafo, che è? Ma siamo andati in BPM Se non è Zimba Aspetta per un attimo E così finisce Così finisce Cos'era? Cosa abbiamo ascoltato? Non lo so se si può definire Cioè, questo è uno sfogo, non è una canzone Oh mio Dio Non saprei nemmeno come descriverla, sinceramente No, perché Cioè, in due minuti e quarantadine Eh, oddio, pochissimo Un botto di cose Cioè, che cosa è stato? Ma pure il video, cioè, tantissime cose insieme proprio No, secondo me l'aumento di BPM c'è stato alla fine Eh, mi sa di sì Minimo Però c'è stato Mamma mia Cioè, le parti sono tutte fighe Soprattutto il finale è tarattata Madonna, bello staccato Stupendo Cioè, questi... Sapevo che mi doveva aspettare qualcosa di pericoloso Ma non sapevo fino a questo punto È uscita ieri è uscita Sì, sì Infatti c'è ancora poche visualizzazioni, diciamo, per Sì Però... Stanno inglobando tutti, tipo, le parti trap Queste cose qua È vero Ci sta perché crea il giusto distacco, capito? Secondo me, cioè È come quando, che ne so, negli anni novanta si stava Inglobando il rap nel metal Eh, sì, sì E mo qua è la stessa cosa però La trap nel metal, capito? Esatto, esatto Sì, sì E ci sta, cioè... C'è la stessa cosa Ci sta perché... Diciamo, dà la giusta botta di novità ai pezzi, capito? Che poi, comunque, sia quei bass da trap E le chitarre tipo a sette corde droppate Comunque hanno il suono grave Esatto, quindi... È perfetto, sembra fatto apposta, capito? Sì, sì Sono due generi che si riescono a mescolare molto bene E poi pure le metriche delle... Sì Delle parole, i flow che, se ne so, li fai in grolo Li fai in versione più trap Ci stanno veramente bene Sì, infatti Però loro, ecco, rispetto, che ne so, agli altri gruppi che comunque stanno a fare questo Cioè, a parte una tecnica allucinante, proprio compositiva Ma... Chitaristicamente dei riff stranissimi Cioè, che a me non mi verrebbero mai in mente Eh, eh, eh Eh, eh Sono imbazziti, sono... Sono malatissimi Sì Sono fuori di testa, proprio Che poi, questi veramente sparano fuori pezzi nuovi come se niente fosse Che... Che... Io... Boh... È stata una botta, Aurora È stata una botta Questo pezzo, penso Prima di riuscirlo a... A... A metabolizzare A metabolizzare Dovrei ascoltare 20 volte Eh, una voglia Però... Bella così Bella per... Per questo nuovo happy talk Ci sta tanto E... Noi... È indescrivito Non si può descrivere O ve l'andate a sentire O sennò... Diciamo... Ci piace quando, appunto, rimaniamo stupiti da un pezzo Sì, sì Perché è novità E loro hanno fatto questo E ci piace Noi ci piace Noi siamo alla ricerca di queste cose E quindi se conoscete pezzi che pensate potrebbero stupirci Scrivetelo nei commenti Stuzzicare la nostra attenzione Esatto E... Noi continueremo, diciamo, a pubblicare nuove cose durante le settimane Che vengono E quindi ci vediamo nella prossima reaction Ciao 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 Ciao